Si è appena concluso il CB 2012. La decima edizione è stata caratterizzata da importanti novità, tra cui un servizio rivolto direttamente ai cittadini. Di che cosa si tratta? Servizio CBIL, servizio di avvisatura e pagamento dei bollettini su base multibancarizzata. Questo è un servizio che vuole intercettare una coposità di bollettini pagati annualmente circa 600 milioni, considerando peraltro che il 90% in Italia delle transazioni di acquisto avvengono ancora su base cash. È evidente che il sistema finanziario ha voluto intercettare un mercato di riferimento proprio con l'obiettivo di da un lato utilizzare infrastrutture di sistema per la veicolazione e quindi l'utilizzo della rete, del corporate banking per il pagamento e dall'altro favorire al fatturatore, al biller, tutti gli elementi utili alla riconoscibilità del pagamento mediante meccanismi di riconciliazione. Pertanto noi consideriamo questo strumento come uno strumento che si affiancherà agli odierni canali di incasso, pertanto il sistema bancario, la banca sarà in grado di ampliare in logica multicanale il processo di incasso di un bollettino. Quali sono i vantaggi per il cittadino e per il fatturatore? Beh certo per un cittadino stare comodamente davanti al proprio pc e pagare una utenza mantenendo gli elementi di riconoscibilità del pagamento utili al fatturatore, questo è per lui un gran vantaggio e per il fatturatore certamente si ha la possibilità di incassare un pagamento su logica multibancarizzata sfruttando una rete di sistema, sfruttando gli standard di riferimento e soprattutto attraverso la centralità del rapporto banca-impresa è evidente che una banca sarà in grado di poter promuovere servizi a valore aggiunto partendo dall'incasso del bollettino su logica multibancarizzata.